Sono dieci nuovi pazienti positivi nelle ultime ventiquattro ore. Questo è il risultato del comunicato che giunge quotidianamente dall'ASP di Caltanissetta. Tre pazienti positivi, tre sono nisseni, cinque sono di niscemi e due di gela. Sono tutti in isolamento domiciliare. Intanto è guarito da Covid-19 un paziente che era in isolamento domiciliare a Mazzarino. Due sono in questo momento i pazienti trasferiti in terapia intensiva. Entrambi sono di gela. Ed è stato ricoverato un nuovo paziente proveniente da fuori provincia. Dimesso un paziente a domicilio ed è morto un paziente di niscemi già un giorno fa ed era un anziano malato oncologico positivo al Covid-19. E intanto per fare un riassunto della situazione, una mappa dei contagi. Sono 84 i positivi in quarantena domiciliare in tutta la provincia, dei quali 22 sono a Caltanissetta, 42 sono a Gela, 16 sono a Niscemi. E invece sono 15 i ricoverati in malattie infettive, 11 provenienti da fuori provincia, uno di Niscemi, tre di Gela. E i due ricoverati in terapia intensiva. Sono in tutto, salgono i numeri vertiginosamente, 347 i positivi in totale dall'inizio della pandemia. Non si registravano decessi dal mese di maggio.